No, sinceramente no, mi dispiace perché mi dicono sempre che assomigli a qualcuno quindi evidentemente non sono molto originale No, no, assomigli, saranno loro assomigliare a te, comunque ho sentito nell'intervista che tu sei anche attrice, hai lavorato già in teatro e adesso che da questa prima fascia che ti ritrovi si apre un attimo, sei al primo gradino di questa scalata, che cosa vorresti fare nel mondo dello spettacolo? Io vorrei recitare in teatro, speriamo, è la mia più grande ambizione, oltre al giornalismo Questo è sicuramente un buon punto di partenza Potresti anche diventare un'elettrice di telegiornale e recitare le notizie Speriamo, chi lo sa Vuoi salutare qualcuno in particolare? Saluto tutti quelli che mi conoscono, è mio nonno che mi ha iscritto a questo concorso Perché crede in te come la giuria di questa sera Forse crede più in lui che io, non ci speravo Non ci speravi, in bocca al lupo per Antonella Cappelli Selezionata italiana per Miss Mondo, Miss Mondo selezione qui all'Angiuli di Bari In bocca al lupo E passiamo adesso ad intervistare il presidente del circolo Che come sempre in tenuta sportiva Presidente, bilancio della serata? Ottimo, veramente ottimo Ottimo l'organizzazione da parte di Paolo Armeni Se è favoloso il presentatore Togliamo i convenevoli Il pubblico delle grandi occasioni, dei grandi avvenimenti Hanno partecipato in massa questa sera? Devo dire di sì Evidentemente è stata apprezzata molto la manifestazione Proseguiremo su questa strada Perché riteniamo che i soci dell'Angiuli Debbano avere queste manifestazioni sempre migliori E sempre più gradevoli da parte loro Per avere una maggiore affluenza sociale Così, chi non è venuto si morderà le mani Quando sentirà come sarà Le ultime conquiste degli atleti dell'Angiuli? Ebbè, insomma, stiamo avendo ottimi risultati Abbiamo avuto un secondo posto al pattinaggio artistico Con un secondo posto a livello nazionale A livello nazionale è stato un ottimo risultato Questo oltre i campioni italiani nelle varie categorie Nella lotta, nei pesi, nello giudo Quindi, continua la tradizione dell'Angiuli Sotto la presidenza del dottor Pascot Che, tra l'altro, sembrava che dovesse saltare Invece mi pare che è stato riconfermato alla grande Per l'ottimo lavoro svolto Benissimo, in bocca al lupo E grazie per la serata Grazie